Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Notte movimentata, quella fra venerdì e sabato scorsi in via Bonfadini a Sondrio, teatro con ogni probabilità di una rista scoppiata fra due persone. Anche se non vi sono testimoni né prove, evidenti sono i segni della collutazione, con chiazze di sangue finite in strada e sul marciapiede davanti al bar Dervis, gestito da Dervis de Jesus, di origini brasiliane, ma da anni residente nel capoluogo. Gerente che da noi contattata ha preso le distanze da quanto accaduto, come ha del resto testimoniato anche agli agenti della squadra mobile della Questura, guidati da Carlo Bartelli, i primi a rinvenire i segni della risse ad effettuare gli accertamenti del caso. Ho chiuso il bar a l'1.20 di venerdì, afferma la gerente, e non c'era nessuno all'esterno. Tutto tranquillo, non so proprio cosa possa essere accaduto. Certamente il mio bar non c'entra nulla in questa vicenda e lo voglio sottolineare, ribadisce. Vendiamo alcolici, è vero, come in tutti i bar, però nulla abbiamo a che fare con faccende di droga. Odio la droga, non voglio che entri nel mio bar, e sono stanca di sentir parlare male del mio esercizio. In effetti, anche dal sopralluogo effettuato dalla Questura emerge l'estraneità al fatto del bar Dervis, nel senso che al suo interno nulla sembra essere accaduto. La collutazione risalirebbe alle ore successive alla chiusura. Sui social si parla delle quattro di notte, quando sarebbero state sentite urla in zona. A giudicare dai segni rimasti sul terreno, le persone coinvolte dovrebbero essere due. Una traccia di sangue, quella più copiosa, termina sulla destra di via Bonfadini, salendo verso via Mazzini, all'altezza del parcheggio auto, per cui si può supporre che il ferito sia salito in macchina, mentre l'altra traccia termina nell'androne del civicotto di via Jacopo Brutto. Quel che è certo, confermano dalla Questura, è che nessuna denuncia per aggressione è stata presentata e nessuno si è portato in ospedale per farsi medicare. Anche le telecamere posizionate in zona non hanno rilevato elementi utili a ricostruire l'accaduto.